ecco il tavolo da pranzo modello mondrian mondrian non è un'esagerazione è una vera opera opera d'arte vediamo l'elemento caratterizzante è questo basamento in tondino di contondini di ferro pieno e questi innumerevoli tondini che sono realizzati in due dimensioni ci sono i tondini più piccoli e quelle più grandi vengono poi saldati in laboratorio con un processo completamente manuale ovviamente c'è una dima che l'artigiano segue per incollare tutti i pezzi ma poi vengono saldati uno ad uno viene creata questa questa forma tridimensionale splendida adesso gli aggettivi sono anche limitanti nel descriverla che ovviamente va a sostenere il piano lascia un'ergonomia ottima per i commensali poi ve lo faccio vedere da seduto e crea questo questo spazio centrale splendido percepibile attraverso il vetro trasparente ma anche lateralmente e proprio con questa vista dall'alto andiamo a vedere come su alcuni punti alcuni tondini dell'anello superiore in particolare sono otto appoggi se non ricordavano si otto appoggi viene poi ulteriormente saldato questo dischetto sul quale viene messo il gommino e al di sopra di questi otto appoggi va poi scusate il gioco di parole in appoggio il piano in vetro da 12 mm vetro che può essere trasparente o trasparente bronzato questo tavolo mondrian è un rotondo con diametro da 180 centimetri fate conto che si parte dal 140 centimetri poi c'è il 160 il 180 e ci sono anche il diametro 200 e il diametro 220 che sono una assoluta rarità perché sono pochissimi i rotondi che superano i 180 centimetri di diametro che comunque vedete è una dimensione già importante piccolo particolare quando si va su queste dimensioni giganti scusate l'espressione gergale bisogna tenere porre un po d'attenzione alle vie di accesso voi immaginate che un piano da 220 centimetri di diametro cioè quindi 40 in più di questo come diametro viaggia in una cassa di legno di dimensioni importanti non è facile da far girare da scale ingressi vie di accesso e quindi bisogna quando si valuta di acquistare un tavolo di queste dimensioni bisogna anche considerare le vie di accesso ovviamente questo è più semplice magari in una villa con una sala da pranzo a pieno terra e per quanto i palazzi importanti normalmente abbiano anche scale importanti va comunque tenuto presente con un po più di attenzione quando si ragiona magari in un appartamento o in un attico scusate la parentesi ma è importante questo aspetto logistico poi ci sono anche gli ellittici ellittici che partono al 170 fino arrivare al 220 quindi di dimensioni relativamente contenute e con una eccentricità particolare l'eccentricità di un ellisse è il rapporto che c'è tra i due assi delle ellisse cioè le dimensioni quindi se parliamo che so di un ellittico da 100 per 170 è relativamente largo rispetto alla sua lunghezza e questo è necessario per far sì che si possa costruire adeguatamente il basamento sottostante che come abbiamo descritto prima qui ha un contenuto estetico e un processo produttivo particolarmente caratterizzanti relativamente alle dimensioni intanto mi accomodo per le dimensioni maggiori è disponibile il lazy susan che cos'è il lazy susan il lazy susan è un piatto centrale di diametro variabile in relazione alla dimensione di piano che acquisto che mi permette un piatto girevole magari è un filo meno nella nostra cultura occidentale anche italiana europea o italiana che sia ed è un po più di derivazione asiatica o diciamo nord americana ovviamente che hanno importato come abitudine dalla cultura asiatica ovvero tavolo rotondo che è un valore universale in termini di comfort sia quando si pranza che quando si dialoga ma giustamente quando c'è un rotondo molto grande e c'è la classica frase scherzosa del mi puoi passare il pepe ecco che il lazy susan ho una parte centrale girevole sul quale posso avere magari dei condimenti o dei side dish cioè dei contorni con cui posso completare il mio piatto e quindi ho la mia parte dove pranzo e il disco centrale questo è un accessorio che si può aggiungere sui rotondi di dimensioni maggiore vediamo anche l'aspetto ergonomico che citavo prima io adesso mi sono tirato abbastanza in sotto devo dire che è un basamento importante non mi permette di allungare i piedi nel vero senso della parola questo va tenuto presente però in termini del di spazio per le gambe in inglese leg space ecco che sono estremamente comodo e quindi anche rispetto ad altri rotondi devo dire che c'è una certa componente di comfort vedete io sono alto 1,85 comunque non posso proprio allungare adesso faccio finta che ecco se mangiassi probabilmente mi metterei in questa posizione non posso allungare la gamba quindi grande spazio per le ginocchia ma non posso allungare il piede a meno di non andare a toccare a toccare il basamento che sarebbe che sarebbe un peccato parliamo anche dei materiali o meglio delle finiture con cui vengono rivestiti i basamenti tenete presente che ogni anello viene fatto uno alla volta ecco che sostanzialmente posso avere un'infinità di finiture sia di verniciati opachi che di verniciati lucidi in vari colori molto caratterizzanti le finitura foglia e le finiture a foglia attenzione sono applicate con un pennellino totalmente a mano foglia oro foglia argento foglia rame foglia champagne ci sono poi le finiture galvaniche come per esempio l'ottone spazzolato piuttosto che il nickel piuttosto che anche il nickel nero molto bello che gli dà un tocco di modernità particolare questa è una finitura bronzo che vediamo e infine anche la finitura oro pallido quindi devo dire un tavolo con una personalizzazione per quanto riguarda i piani relativa perché c'è giusto il trasparente o il bronzo ma attenzione questa personalizzazione relativa dei piani è fatta semplicemente per dare estremo valore alla forma e alle finiture del basamento quindi tavolo da pranzo rotondo ed ellittico una vera e propria scultura modello mondrian grazie a tutti